Eccoci qui in un nuovo video, sono Marco, mi occupo di marketing e di business online e in questo video ti faccio vedere i 7 tipi di funnels di vendita che vanno per la maggiore in questo momento del 2020 e che probabilmente andranno per la maggiore per altri anni a venire probabilmente qualcuno di questi lo conoscerai già, in qualcun altro sicuramente ti sarei imbattuto in passato tramite qualche azze ma è comunque importante comprendere sia la struttura di ogni tipo di funnels che alcune caratteristiche principali, alcuni vantaggi, alcuni svantaggi di ognuno di esso. E' logico che in questo video non potrò andare ad approfondire tutte le caratteristiche di ogni singolo tipo di funnels anche perché soprattutto per alcuni ci vorrebbero veramente qualche ora solo per introduzione solo per capire effettivamente di cosa stiamo parlando quindi altri approfondimenti usciranno in futuro A tal proposito ti invito quindi di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo tale da essere sicuro di essere aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo contenuto gratuito qui su YouTube Fatto questo iniziamo con il video principale, con il contenuto principale e iniziamo con il primo punto, spero si veda faccio un po' di zoom il primo tipo di funnel di vendita è la one time offer se in inglese tendenzialmente nell'ambiente tecnico viene riassunto in OTA in italiano che è il one time offer come caratteristiche è tipico di Russell Brunson probabilmente Russell Brunson se ancora non lo conosci è colui che ha portato alla ribalta sempre di più ai funnel le ha resi famosi ed è peraltro uno dei fondatori di ClickFunnels che in questo momento è la piattaforma più utilizzata per la creazione dei funnel la one time offer è tipica di prodotti low ticket e quindi anche di upsell, cross sell, down sell e tutto quello che riguarda un po' queste tecniche di vendita cosa si intende per one time offer? è molto semplicemente quando noi magari dopo che l'utente, dopo che il lead ha effettuato una determinata azione che può essere magari l'inserimento dei dati quindi abbiamo appena acquisito quel lead o un piccolo acquisto, un acquisto importante o si sta inserendo magari nel carrello un determinato prodotto noi gli mostriamo un'offerta temporale in modo tale che sia più spinto ad aggiungere al carrello anche questo prodotto come ti dicevo è appunto molto tipico di Russell Brunson di quelli che sono i suoi funnel e di quelli che sono anche i suoi seguaci quindi i funnel dei suoi seguaci tendenzialmente sono delle offerte che comunque non sono molto molto costose e sono come ti scrivo qui sono appunto upsell, cross sell in modo tale da cominciare ad aumentare il guadagno medio per ogni cliente per ogni possibile cliente quindi il problema è che essendo tipica di prodotti low ticket se non hai un grosso bacino di utenza o non hai il budget per portare tantissimo traffico quindi generare tantissime vendite e marginare anche pochi euro cose che effettivamente ti sconsiglio allora one time offer non è così proficua per il tuo business il secondo tipo di funnel è un funnel tendenzialmente un po' più raro proprio perché c'è bisogno di più lavoro dietro ed è il book funnel cosa c'è da dire per quanto riguarda il book funnel? esempi famosi sono appunto lo stesso Russell Brunson che citavo prima e sicuramente questo lo conosci Tony Robbins è il famoso guru di crescita personale ma anche di crescita monetaria negli ultimi anni ha fatto anche lui un book funnel per la vendita per il lancio di uno dei suoi ultimi libri che è Money Master the Game che peraltro, piccola chicca il funnel è stato realizzato appunto da Russell Brunson stesso in che cosa consiste il book funnel? il book funnel è tendenzialmente una landing page che ti propone l'acquisto di un libro molto spesso nella maggior parte dei casi ti regalano un libro in cambio è semplicemente del pagamento delle spese di spedizione quindi tendenzialmente loro te lo propinano come un regalo e una volta che hai acquistato quel libro tendenzialmente il marketer o utilizza una one time offer come nell'esempio precedente quindi i due funnel possono essere benissimo uniti o magari sa già che tu potresti essere un buon acquirente in futuro proprio perché hai dimostrato di avere fiducia inserendo appunto già una volta una carta di credito che è molto molto interessante proprio per rompere diciamo il ghiaccio da questo punto di vista anche qui il book funnel è vero che è molto potente in alcuni contesti non solo da un punto di vista online ma anche da un punto di vista offline perché poi quell'utente riceverà il tuo libro quel libro tendenzialmente è una sales letter per qualcosa di più rilevante per un corso magari più costoso e in ogni caso un altro pro che possiamo aggiungere è che aumenti vertiginosamente il tuo personal brand quindi ti posizioni fin da subito come autore di un libro il che non è assolutamente male il problema sono i numeri per quanto riguarda il fatto anche questo non è un elemento che dovresti assolutamente assolutamente trascurare che cosa intendo? intendo che devi considerare le spese di acquisto del libro le spese che ti comporteranno la creazione del libro se magari lo devi delegare o devi delegare determinati elementi come magari la copertina l'acquisto delle spese della stampa e ovviamente capisci anche bene che anche se riesci a guadagnare qualche soldo offrendo quel libro magari facendogli pagare appunto le spese di spedizione in ogni caso sei già in perdita o probabilmente comunque il tuo profitto è zero se non sei in perdita quindi anche qui va bene se utilizzato ma solo in pochissimi contesti quando veramente stiamo parlando di budget esagerati in cui si possono fare dei testing e in cui ci si può permettere anche il lusso di marginare poco per ogni singolo cliente perché si sa che magari stiamo portando centinaia di migliaia o addirittura milioni di clienti quindi il terzo invece tipo di funnel di vendita è il product launch formula anche questo molto molto famoso probabilmente ti sarà imbattuto in una di queste strategie il product launch formula è costituito da una struttura che è fondamentalmente basato dai tre video più un video di vendita questa tendenzialmente è la struttura base poi ovviamente ci sono diverse varianti ed ha fatto diventare famoso e aggiungerei anche ricco Jeff Walker che è appunto l'autore di questo product launch formula o comunque la persona che l'ha portata alla gloria per quanto riguarda i pro e i contro dimostri il valore quindi hai la possibilità non solo di dimostrare valore ma anche di cominciare a far interessare il tuo utente nel corso appunto di questa sequenza di email perché in questi 3-4 video gli puoi far vedere effettivamente magari gli puoi descrivere il suo problema far leva su questo problema e poi alla fine nel quarto video portare come soluzione al suo problema il tuo prodotto o il tuo servizio quindi questo è molto molto interessante hai l'opportunità veramente di lavorare nella mente del tuo cliente il contro è più importante è che purtroppo ci sono tantissime variabili quindi questo lo devi tenere assolutamente in considerazione cosa intendo per variabili che tendenzialmente hai come prima variabile la landing page che quindi già devi ottimizzare poi ci sarà il contenuto del primo video il contenuto del secondo video il contenuto del terzo video e il contenuto del quarto video e della sales page più ovviamente devi reindirizzare ogni giorno la persona in quel video nel prossimo video e quindi ci saranno anche come variabili aggiuntive quelle dell'email marketing quindi come capisci ci sono molte molte variabili in ballo e questo sicuramente lo devi tenere in considerazione soprattutto se sei alle prime arabe ok passiamo nella parte sinistra della nostra mappa mentale e andiamo in uno dei funnel che tendenzialmente è più utilizzato nel momento attuale probabilmente ovvero il webinar funnel la struttura probabilmente la conoscerai è caratterizzata da un webinar o una masterclass o un mini corso come lo vuoi chiamare come lo chiamano i formatori o i marketer di turno e questo webinar può essere realmente in live o come molto comunemente succede una semplice registrazione ok quindi questa è la struttura e poi c'è ovviamente tutta un'attività di retargeting che è la parte anche più importante di questo tipo di funnel in cui noi incominciamo a rimostrare un determinato tipo di messaggio a gente che magari non ha visto il video quindi si è iscritta ma non ha visto il video a gente che ha visto ma non ha comprato o seguendo magari altre altre variabili ok quindi questo è un po' il webinar webinar funnel gli esempi famosi fondamentalmente Sam Movens che è probabilmente quello che sta facendo più soldi tramite questo tipo di funnel nelle ultime interviste ha detto che sta facendo più di 100 mila dollari se non sbaglio al giorno tramite un singolo funnel un singolo funnel in cui manda veramente però milioni di click ogni giorno e la maggior parte ed è quello più utilizzato attualmente appunto dalla maggior parte dei formatori sia americani ma anche qui in Italia il quinto funnel l'ho aggiunto un po' così ma come ti scrivo anche qui non fatelo non farlo assolutamente ed è il fake contest questo tipo di funnel è tipico degli anni 90 ed è stato tipico purtroppo di quello che viene definito un po' l'illegalità delle vendite quindi le classiche sonerie le classiche truffe ed il fake contest è proprio quello una truffa in cui fai cioè di per sé non è una truffa scusami tu illudi quella persona illudi il tuo utente che lui abbia acquistato che lui abbia sia stato scelto o abbia vinto un determinato tipo di contest solo che il problema il problema più grande è che questo tipo di funnel è stato utilizzato appunto come ti dicevo per le classiche truffe di suonerie di antivirus che poi si rilevavano dei malware tutte queste cose qui che ovviamente ti sconsiglio ti sconsiglio assolutamente di promuovere quindi dopo anni che le persone hanno visto questa hanno associato questa tecnica a prodotti di così basso livello ormai si sono creati determinati anticorpi se così lo possiamo definire che semplicemente abbassano la qualità del tuo brand o addirittura del tuo personal brand se utilizzi una cosa del genere quindi te lo sconsiglio assolutamente il sesto tipo di funnel è molto molto interessante si parla di bridge bridge funnel ok che cos'è il bridge in inglese significa ponte la traduzione è ponte ed è tipico del network marketing ora vediamo anche perché è tipico del network marketing la struttura è basata fondamentalmente su due funnel che si uniscono quindi uno fa da ponte al funnel principale quindi il primo funnel avrà le caratteristiche di altri funnel quindi potrebbe essere una semplice lead generation potrebbe essere quindi una squeeze page o potrebbe essere anche non lo so un video introduttivo dipende ovviamente dai contesti e poi questo primo funnel questa prima landing page quello che è fa semplicemente da bridge e lo reindirizza reindirizza l'utente al funnel principale quindi perché viene utilizzato molto spesso nel network perché i networker tendenzialmente lavorano con delle aziende che hanno dei magari dei funnel già funzionanti già testati che sanno che quindi portano dei risultati molto spesso si parla per adesso anche in questo caso di funnel che comprendono webinar quindi webinar funnel ok quindi alcuni networker un po' più sofisticati che magari anche a prezzo cosa fanno? reindirizzano invece di reindirizzare il cliente quindi l'advertising direttamente sulla pagina della propria azienda li fanno prima passare un percorso in cui acquisiscono i suoi dati e hanno quindi un proprio database personale di possibili clienti che poi magari possono sfruttare in altre situazioni in altri contesti dopodiché si affidano ovviamente all'azienda principale ai contenuti dell'azienda reindirizzandoli al funnel al webinar alla product launch formula a quello che è e poi ovviamente percependo le commissioni da eventuali conversioni ok quindi questo è il bridge funnel e se sei un networker non ti preoccupare probabilmente pubblicherò un video a riguardo nel caso scriverlo nei commenti che sicuramente sarò più invogliato a pubblicare il video in questione il settimo punto è il diretto cosa significa diretto prima di tutto è possibile vendere direttamente ok quindi stiamo parlando di funnels di vendita se io ti dico è possibile vendere direttamente senza troppe pagine senza un funnel avere proprio con me la nostra concezione si è possibile allora se abbiamo un'offerta incredibile se gli stiamo offrendo appunto un'offerta incredibile come se io ti faccio un esempio banale da prendere proprio con le pinze ti dicessi compro questa una macchina 1000 euro probabilmente non avrei bisogno di un funnel perché tendenzialmente l'offerta sarebbe così irresistibile che molti comprerebbero senza troppi orpelli di turno ok un altro un altro elemento da considerare è se siamo i primi in un determinato mercato quindi se veramente la nostra offerta è incredibile e se la nostra nicchia non ha mai visto nulla di questo genere allora tendenzialmente anche con un'offerta diretta potremmo potremmo essere in grado di vendere un determinato prodotto un determinato servizio oppure qui aggiungo alcuni prodotti low ticket ok se il nostro prodotto se il prodotto che stiamo sponsorizzando è di 10 euro di 20 euro probabilmente non c'è bisogno neppure di fare chissà quale funnel per vendere ok sarebbe anche una spesa inutile e una perdita un'enorme perdita di tempo ed infine è possibile questo anche in in presenza di prodotti ai ticket servizi ai ticket con clienti già riscaldati in altri modi che cosa significa che se io ho un'attività magari come questa su youtube sul canale o una pagina facebook o un profilo instagram in cui magari condivido informazioni ogni giorno giorno per giorno le persone quindi incominciano a fidarsi sempre di più di me a seguirmi sempre di più alla fine quei possibili clienti quei lead sono già riscaldati e quindi quando li promuoverò una determinata pagina un determinato corso allora non ci sarà necessità neppure di fare un funnel proprio perché coloro che vogliono acquistare lo acquisteranno in ogni caso questo è veramente veramente molto molto importante da comprendere detto questo questi sono i sette tipi di funnel di vendita più famosi probabilmente ne potremmo aggiungere altri e sicuramente in futuro ne uscirà qualche struttura in più quindi ti chiedo di commentare il video come al solito e dirmi magari i funnel che hai utilizzato in passato e magari eventuali pro e contro che pensi al riguardo questo è l'importante una volta fatto questo ti rinnovo l'invito a iscriverti al canale ad attivare la campanella per essere sicuro di avere maggiori aggiornamenti sugli altri video di questo genere in più ti consiglio assolutamente di guardare la descrizione di questo video perché probabilmente ci sono informazioni molto molto rilevanti come l'accesso alla community privata che stiamo per lanciare in cui do a disposizione 50 dei miei funnel che mi hanno portato maggiori risultati e li hanno portati anche i miei clienti ok fatto questo ti saluto e ti do un in bocca al lupo per il tuo business ti do un in bocca che ti do un in bocca